Domenica prenderà in avvia il campionato del mondo giovanile alla Lega Navale, a che punto siamo con i preparativi? I preparativi ormai sono quasi tutti quanti finiti e completati, la macchina è iniziata a funzionare da quest'estate d'agosto che siamo immersi nell'organizzazione, mancano i piccoli ritocchi e anche la sede si sta preparando, abbiamo cercato di rimetterla a bello per farci conoscere e far conoscere la città a tutti quanti in maniera differente. Quanti sono gli atleti che prenderanno parte al Mondiale? Allora, gli atleti sono 16 nazioni partecipanti fino ad oggi, consideriamo che fino al 20 ottobre alle ore 11 possono ancora iscriversi e attualmente sono 123 partecipanti. Qual è invece il programma della manifestazione? Allora, il programma iniziamo il 20, il 20 c'è la prima regatina di prova, il Pratica M e poi dopo che ci sarà l'inaugurazione ufficiale della gara, alza bandiera alle canavali intorno alle ore 18, sfilata lungo la via Tonde Revelle e quindi lungo la marina e arriviamo in ala consigliare per fare poi l'apertura ufficiale della gara con un giuramento degli atleti. Quando si chiuderanno invece le gare? Le gare si chiuderanno il 26 di ottobre, il 26 ottobre si disputerà la regata al medal, le regate quindi perché i ragazzi sono arrivati nei primi 10 e lì si aggirà il titolo mondiale. Sono soddisfatti dell'organizzazione e della partecipazione che avete ricevuto? Sì, sicuramente, poi è un grosso evento, abbiamo tre ragazzi molto forti dei nostri per cui giocano in casa, puntiamo molto su di loro. Per quanto riguarda gli obiettivi, per la risposta che vi aspettate dal pubblico civile del Chiesa? Noi stiamo facendo di tutto per rendere anche chi non conosce bene le regate la possibilità e la conoscenza di questa pratica attraverso per esempio dei GPS che monteremo negli ultimi tre giorni di prova. Abbiamo un bravo commentatore che viene da fuori, Anzio Ferin, che in tempo reale commenterà la regata, i passaggi in boa e quindi potrebbero essere visibili su internet direttamente o su un maxischermo che cercheremo di allestire anche all'interno della lega nuale.